Per il volley, domani finale del playoff per il quinto posto con la Leo Schoes in campo a Milano. Impaglio la Challenge Cup nella stagione che dopo l'annuncio ufficiale Modena Volley affronterà con Bruno Resende in cabina di regia. Allenare un giocatore così forte, un giocatore che ha vinto tanto e continua a vincere, è qualcosa che sicuramente mi farà crescere. È un giocatore che ho sempre voluto allenare, nella prossima stagione si lavora nella mia squadra, quindi sarà una bella esperienza. Oltre ad essere un grande giocatore che in campo sa trovare le soluzioni anche nei momenti più difficili per aiutare i propri compagni, è una grande persona. Quindi è un qualcosa che mi rende felice perché, ripeto, questa squadra ha preso un giocatore veramente di altissimo livello. La partita che andremo a giocare domani è una partita tosta perché Milano nelle tre partite contro cui abbiamo giocato abbiamo perso 3-2, 3-1, 3-1. Insomma è una squadra che gioca, gioca anche molto bene, quindi sarà una partita difficile. Milano nelle due fasi sia di set out che di break point è estremamente equilibrata, ha tanti giocatori da poter ruotare, lo ha fatto anche in questo torneo, giocatori esperti. Quindi devi giocare bene, devi fare bene tante cose, non basta avere solo il set out, devi lavorare bene anche nella fase break perché giochi contro una squadra che in questa stagione ha fatto veramente bene, in questo playoff per la challenge sta facendo veramente bene, quindi devi giocare, devi veramente esprimere un'ottima pallavolo.